Attenzione, il seguente video è a scopo goliardico e contiene spoiler sull'intero Final Fantasy VII Remake e sulla trama del capitolo originale del 97. Se non volete rovinarvi alcuna sorpresa scappate immediatamente, vi avvisiamo inoltre che questo contenuto è un extra e si discosta completamente dallo stile generale di Two Times Nerd. Fatte le dovute premesse, vi diamo il benvenuto a un nostalgico gioca Final Fantasy VII Remake. Finalmente, era da cinque anni che aspettavo questo momento, non vedo l'ora di cominciare a giocare, Cloud, Barrett, Tifa, Iris, arrivo! Vabbè, vabbè, si sapeva, si sapeva, dai, nel frattempo vado a farmi un caffè. un solitore che si realizza, Midgard di giorno, il modello di Cloud così ben definito da sembrare uscito da un gioco per PS5, Biggs, Jesse e Wedge sono semplicemente perfetti, sono loro dopo 23 anni se li hanno riportati in vita, per non parlare poi della ragazza così ben caratterizzata e ammiccante, brava Square, anche Barrett è figo sebbene abbia degli occhiali da sole che non c'entrano nulla con l'ambientazione, ma va bene così, chi dice che era cringe non ha capito un accidente, viva la Square, caspita ma il settore 8 è enorme, è commovente vedere come hanno ampliato il tutto, dicevano la verità, hanno mantenuto le promesse, Kitase, Nomura, Nojima, vi amo la follia, Sephiroth, ma appariva più tardi nell'originale però, chi se ne frega, wow, oh Iris, doppio wow, ma resterò sempre fedele alla mia tifa. Batto il team dell'originale dinamico e orchestrale, triplo wow, questo è davvero Final Fantasy VII, più vivo che mai, queste creature che sembrano dei dissenatori usciti da Harry Potter, che cosa mi rappresentano? Ma sicuramente lo capiremo più avanti, ma non saranno nulla di così importante, anzi secondo me potrebbero essere una rappresentazione concreta dei lamenti del pianeta, chissà, chissà, bravi, bravi. Tifa, tifa in HD, tifa, sei bellissima, muoio di gioia, tu da sola vali il prezzo dell'intero gioco e guarda che aspetto meraviglioso che hai, anche se lì un pochino sono andati a ridurre. Oh no, ci risiamo, Gigino il micino ha colpito ancora, dannate Fetch Quest inutili, Final Fantasy XV non vi ha insegnato nulla, dagli sbagli non si impara mai, eh? Però c'è tifa, quindi vi perdono. Il personaggio che ci serviva. Il personaggio di cui non avevamo bisogno. I personaggi che ancora non ho capito chi siano, ma figurati, non saranno importanti. Final Fantasy XII, sei tu? Ma... perché quello sfondo è così sgranato? Sembra tanto una foto che avrei potuto scattare con il mio cellulare di sette anni fa. Ma sì, ma chi se ne frega, il gioco è bellissimo e gli scontri sono emozionanti e siamo quasi arrivati al Reattore 5. Avanti tutta! Oh, è proprio lui! Hairbuster, con di sottofondo, still more fighting, la mia boss team preferita nella versione più orgasmica possibile! Let's fight! Sei stupenda, ma... non mi farei cambiare idea... su tifa. Non mi farei cambiare idea... Ah, maledetti sviluppatori, perché lavorate così bene e vi mettete in difficoltà? Ancora loro? Non è che devo cominciare a pensare male? Ma... Fedro, sei il solito inutile paranoico! Le baracche, la sporcizia, i bogghi! Underneath the rotting pizza, riarrangiata in maniera magistrale! Ah, avete realizzato il mio sogno! Tutto è il posto giusto! Cazzo però... pure il Mira! Milfone notevole! Oh, senti che musica! Stiamo per raggiungere la mia zona preferita di Midgar! Ah, non vedo l'ora di perdermi tra le viuzze del World Market ascoltando questa team per ore! Cosa, cosa, cosa? Ma cos'è questo remix orribile del mondo è mio di Aladin? Rivoglio il team originale! Però vi perdono! Avete messo tutto quello che c'era nel World Market che ho adorato! Il tizio che vomita il cesso, il ristorante in cui si mangia da schifo e l'Honey Bee! Mi rifiuto di chiamarlo Dolce Miele! Ci sta! Ci sta! È un cambiamento notevole rispetto all'originale ma eravamo pronti! Cloud nella vasca con Mucchi e gli altri palestrati arrapati mi avrebbe inquietato in un po' Cloud best waifu, indeed! Corneo e i suoi scagnozzi sono perfetti! L'immaginavo proprio così nel 97 e devo dire che io e il pappone potremmo fare a gara tra chi ha la panza più grossa! Chi se ne frega se può scegliere solamente Cloud! Il remake fino ad ora è stato fedelissimo! Il 97 è lontano e questo è un altro gioco! Viva la Square Forever! Ho sempre odiato le foglie nei videogiochi ma... È il remake! Quindi sono belle pure quelle! No Square, io qui mi inginocchio! Cioè rendere un luogo di passaggio così interessante, ampliato e con nuovi elementi di trama è semplicemente una meraviglia! Bravi, bravi, bravi! Voi sì che avete a cuore l'infanzia di noi fan! Biggs Wedge Jesse Nojima, Nomura, non dovevate caratterizzarmeli così bene! Già nell'originale era uno strazio vederli morire! Wedge è ancora vivo! La Shinra ha un laboratorio segreto sotto il settore 7? No vabbè non ci credo! Hanno mantenuto anche il sistema delle affiniti! Cloud, fatti avanti! Tifa ti vuole! Fosse l'unica poi! Ma si sa, tu preferisci trastullarti con le tue materie! E sì, materia! Non materie! Cancellate questo minigioco dalla faccia della terra! Vi prego! Vabbè dai, anche questo sfondo fa cagare come tante altre texture che abbiamo visto in altre ambientazioni ma ci sta, il gioco è una meraviglia! Square su altri fronti ha lavorato benissimo! E ho già deciso che Final Fantasy VII Remake sarà il mio GOTY 2020! Che bello il quartier generale della Shinra! Oscuro, imponente, misterioso, molto meglio di come lo ricordavo! No vabbè, io non resisto fino al capitolo 2! Datemelo giocabile! Ora! Oh, great! These assholes again! Probabilmente un experiment di scienra! Whispers Perhaps best described as arbiters of fate They are drawn to those who attempt to alter destinies course And ensure they do not The flow of the great river that is the planet From inception to oblivion No! 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 Ma che diavolo sta succedendo? I dissennatori non dovevano essere importanti! Dovevano essere le grida del pianeta che sentiva Iris! Cos'è questa roba? Perché questi agiscono appena succede qualcosa di diverso dalla trama? No! 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 Calma! 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 Square non puoi tradirmi ora! Non puoi tradirmi ora ad un passo dal finale! Cos'è questa giunta di trama?! Cosa sta succedendo? Facciamo un respiro profondo Andiamo avanti Riprendiamo la nostra partita Non è successo niente Non è successo niente D'altronde un piccolo incidente di percorso Può capitare Meno male Meno male Ok ok Siamo tornati sui binari Siamo tornati sui binari C'è Motorball Ok 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 C'era da aspettarselo E' il villain iconico di Final Fantasy 7 Non poteva mancare Non poteva mancare Non doveva apparire qui Ma non poteva mancare Lo sappiamo Senza Sefi Il gioco non avrebbe venduto una cippa Quindi Ce lo facciamo andare bene Oh Dio Non ditemi che è ciò che penso Ditemi che non è vero Ditemi che è un incubo Tifa del 97 Non guardare Wait Is that all of them? Andrà tutto bene Andrà tutto bene Nomura Nojima Purtroppo E' difficile Purtroppo So che questo Genererà dei forti Malcontenti Tra chi segue il canale Perché ve l'avevo promessa Ed è vero Non dico nulla Però purtroppo Non riuscirei A registrare Una serie su un gioco che personalmente non mi ha dato ciò che mi aspettavo e potrebbe essere un problema mio, assolutamente Final Fantasy VII Remake è un ottimo gioco dal punto di vista ludico ma non è il Final Fantasy VII Remake che io volevo ma di questo, come già detto, parleremo nell'analisi Prima di concludere però voglio fare un ringraziamento a Titan89 che ha fatto questo memino qui bellissimo che mi ha ispirato per la creazione di questo video un grandissimo ringraziamento va anche all'amico Jade Fantasy che mi ha dato gli input giusti per la realizzazione di questo video e tanti tanti consigli, come sempre vi invito ad iscrivervi al suo canale dato che sta portando una perfect run di Final Fantasy VII Remake in modalità difficile in quella run troverete tutto, riuscirete a raggiungere il platino ovviamente il playthrough è in corso quindi gli episodi usciranno mano a mano detto ciò ragazzi, noi ci vediamo alla prossima vi ringrazio per l'attenzione spero non vi siate sconvolti troppo e come sempre vi invito a lasciare un like o un commento se il video è stato di vostro gradimento ditemi anche la vostra riguardo alla serie e ripeto, faccio le mie scuse pubbliche a tutti coloro che la aspettavano ma davvero non me la sento di girarla non sarei io e sarei falso a fare una cosa del genere ad ogni modo ci vediamo alla prossima buona serata ragazzi grazie a tutti grazie a tutti